Mangiare bene e soprattutto fare del bene è lo scopo di Metti una sera a cena, un vero e proprio assaggio di solidarietà per i bambini dell'ospedale Santo Bono Pausilipon, 12 tra i più rinomati ristoranti partenopei, diversi per stile, tradizione, storia, cucina, clientela, uniti da un solo intento, contribuire ai progetti benefici proposti dalla fondazione Santo Bono Pausilipon. Nella serata del 27 marzo i clienti di queste 12 attività ristorative hanno gustato normalmente la loro cena. Una parte dell'incasso però è stata devoluta dagli esercenti alla fondazione Santo Bono Pausilipon che da anni affianca l'azienda ospedaliera pediatrica partenopea nelle attività assistenziali, nello sviluppo di progetti di formazione e ricerca di rilievo internazionale e nel promuovere iniziative sociali. Tutto a favore dei più piccoli, ma ascoltiamo i clienti che hanno partecipato all'iniziativa. Credo che sia una nobilissima iniziativa e noi l'accogliamo con grande favore. Credo che i bambini del Pausilipon debbano essere aiutati in qualsiasi modo possibile perché il Pausilipon merita ogni cura e ogni attenzione da parte di tutto il popolo napoletano. Si viene con piacere per fare del bene alla fondazione Santo Bono Pausilipon e per non allontanarci troppo con la beneficenza. È giusto farla nella nostra città. È la cosa più piacevole stasera perché a di là del fatto del mangiare, noi mangiamo tutti i giorni, ma stasera mangiamo per fare un'opera meritoria, per aiutare i bambini che soffrono e che hanno più bisogno di noi e hanno bisogno delle cure.